Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Alessandra Mazzucato, di 57 anni, gli ultimi dei quali vissuti al centro residenziale per anziani, Umberto I di Piove di Sacco, dove è avvenuto il decesso domenica scorsa. La donna, infatti, soffriva di una rara e per molti versi ancora sconosciuta patologia degenerativa, che nel recente passato ha colpito anche la madre e un fratello di Alessandra, deceduti in un arco temporale piuttosto breve. La vicenda è raccontata da Il Gazzettino, che spiega Quello di Alessandra è stato un vero calvario, iniziato almeno una ventina di anni fa, quando la donna lavorava con successo in un negozio, lungo la statale piovese, nel capoluogo della Saccisica. Poi le difficoltà nella diambulazione obbligarono Alessandra a cedere l'attività, ritirandosi a casa dove nel frattempo appunto anche la mamma e un fratello erano stati colpiti dallo stesso male. Contro di esso, purtroppo, sembrano non essere state individuate cure, in grado di consentire una vita normale, alle persone che ne sono affette. Così dopo la morte della mamma e del fratello, il peggioramento delle condizioni di salute di Alessandra ha obbligato la famiglia a cercare una soluzione, che fosse in grado di assicurare un'assistenza adeguata alla donna. Ecco, quindi, il ricovero al kraut di piove di sacco, dapprima nel centro residenziale, e poi nel reparto dedicato alle persone in stato vegetativo, dove Alessandra è spirata. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.